Buongiorno, di ciao a tutte le zie, di ciao a tutte le nonne, di ciao a tutte le cuginette, di lì dove siamo, siamo a Villa Carcina, sono a Villa Carcina con la mia nonna, ciao, ciao a tutte, di ciao Gini, di ciao Gini, ma vuoi far vedere a fare un sorrisetto di quelli belli che fai alla nonna sempre, volessi farlo alle nostre amiche, un sorrisetto bellissimo che fai sempre alla tua nonna, dai, un bel sorrisetto, sì, ma non voglio i pianti, voglio un bel sorrisetto e una bella parolina a queste zie, va bene, ce la facciamo, ciao a tutte, ciao a tutte, vieni, c'è qualcuno lì che si emoziona dietro, ciao Gioia, ciao, voleva darvi un saluto veloce veloce, anche tanta richiesta, perché mancamente, super richiesta, super richiesta, e quindi voilà, voilà la nonna che si è cambiata e poi vi dirà il tutto, ok, vado anche bene vestita così a fare la nonna, amore mio, vado volendo così a fare la nonna, un bacino, questi bacini è per tutte le zie che ci sono dall'altra parte, vero? Vero zia? Tieni mamma, tieni mamma, tieni mamma, ecco, allora cosa vogliamo dire alle nostre amiche? Eh? Che un po' che non le vedi, che non le senti? Siamo sempre qui. Allora, la nostra Ginny deve ancora fare i tre mesetti, volevo farvi un saluto veloce veloce, eh? E poi, cosa fai adesso? Vai a mangiare la pappa? Eh? Vai a mangiare la pappa? Che emozione amiche mie, sono già passati tre mesi da quando è nata questa frugolina, sono già passati tre mesi, tre mesi di bimba, tre mesi di bimba, buona, buonissima, mangia e dorme, volevamo farvi un saluto, una sorpresa così e anche un augurio, tante di voi saranno al mare, saranno in vacanza, ehi, ma patata, ma ma patata grande, ma ma patata grande della nonna, quindi mamma tenimi sulla testina amore, e dai, un bel sorriso a queste zie, ciao, ciao, ci vediamo dopo, ciao, ciao, ciao Ginevra, e ciao le zie, e ciao le zie, sei muta? E ciao, ciao, bene ragazze, ti raccomando, ecco, stai attenta, metti sui numeri, grazie, sì, brava, metti sui numeri per le nostre amiche, ciao, ciao, mi sia piaciuta questa sorpresa ragazze, perché è proprio, guardate, è un piccolo fiorellino, un piccolo germoglietto su questa terra, come tutti i vostri nipotini, so che tutte siete impegnate anche voi, insomma, non è facile un ruolo di mamma molto più semplice, credo, quello di nonna, cosa dite voi, eh ragazze, quindi, spero di avermi fatto cosa gradita, Simona mi dice, mamma cosa dici, me lo chiedono in tante, perché no? E io, cosa vi dico, indosso questo abito meraviglioso, ragazze, cominciamo a fare quello che è la nonna sprint, che mi dice sempre, eh ma sei una nonna? E sono una nonna che corre da mattina a sera, e quindi ragazze, oggi ho cambiato anche look, questa mattina ho voluto acconciarmi così, perché trovo che comunque, abbinato a questo abito stupendo, meraviglioso e super femminile, che posso anche dirvi, poi passiamo a uno stand a tutto 30 euro, perché ragazze, lavoriamo fino settimana prossima, poi da, fino sabato pomeriggio e poi dal 13, che sarà domenica, il negozio sarà chiuso per due settimane, voi comunque potete comunque chiedere sempre su whatsapp tutto quello che gradite, adesso arrivano i numeri fissati e ieri ho visto tante che chiedevano, scusa ma potete mettere almeno i numeri, allora amiche mie, i numeri di telefono li trovate ovunque, basta che andiate sulla pagina Gabriele Sabigliamento Donna, trovate il tasto whatsapp, trovate tutti i numeri, sopra tutti i post, se andate sul sito Gabriele Sabigliamento Donna, anche lì trovate tutto, addirittura i tasti che vi mandano su whatsapp, se avete voglia di seguirmi sul mio canale youtube, andate su youtube, cercate Gabriele Sabigliamento Donna e vi iscrivete, anche lì troverete comunque tutto scritto, dettagliato con tutti i numeri, vedo che sei impegnata, dovrei aver risposto tutte, con gli abbracci, allora noi qui non possiamo continuare a scrivere sotto il numero di telefono che però trovate tra un secondo fissato lì, perché diventano messaggi ripetitivi e quindi poi magari si possono creare qualche, si può creare qualche disguido soprattutto per il social, quindi ragazzi, tornando a questo abito che io volevo farvelo vedere indossato insieme a questo gioiello per la vita che costa 269 euro, vogliamo farlo vedere? Cosa dite? Vi può piacere questa idea? Allora, indosso una taglia 40, mi andrebbe bene anche una taglia 42, a scelta, vedete, come voi volete farvi modellare addosso, qui la 42 è esaurita, parte dalla 40, guardate mi sono fatti gli appunti, dalla 40 alla 52 in questo meraviglioso color menta, che secondo me è comunque un color Tiffany, nero 40, 42, 44, ci sono tutte le taglie al momento assortite dalla 40 alla 54 e quindi immaginatevolo nero, quanto è bello, è inutile farlo vedere, nero è sempre nero, cos'è questo tessuto ragazze? è la nostra crepe elasticizzata, stupenda e meravigliosa, il prezzo, il prezzo ragazze erano 79 euro a 30 euro le ultime serie rimaste, quindi vi posso dire che il Cina, che è questo colore 42, 44 e l'Orchidea, che è questo colore meraviglioso, 44, 46, ok? quello che indosso io, ciao, sta partendo la Ginni, allora, quello che indosso, quindi i numeri telefono sono stati fissati, non ancora, ah non ancora e quindi? Non avevamo detto di farlo? gioia io sono qui, ecco perfetto, allora lei non l'ha fatto adesso, lo troverete, comunque ragazze i numeri, guardate, fai una toccata lì e fuga davanti, così chi avesse in questo momento qualche problema li vede e se li segna e via dicendo, comunque li trovate dappertutto, sulla pagina trovate anche il numero del negozio e via dicendo, siamo reperibilissime, dai ragazze ditemi qualcosa di questo colore, se mi dona, se vi piace, cosa dicono le mie amiche? E' tutti per Ginevra in questo momento, quindi aspetta il tuo fra un attimo, sai che arriva dopo il video, sì è vero, direi che ragazze, allora cominciamo col dire che ci sono tante novità, voi potete guardare questo negozio, sembra già allestito, abbiamo tutti i nostri sconti, tutte le nostre giacche, tutte le nostre camicie, ormai possiamo dire che abbiamo tutti i capi, quasi a 30 euro, tutte le nostre camicie qui, guardate, abbiamo riassortito tutto questa mattina per dire che quello che c'è qua, a parte le giacenze che ci manda il nostro Ale, dovrebbe essere tutto rifornito, pantaloni sfusi, facciamo vedere un attimo così, qui abbiamo tutte le nostre, diciamo, i nostri accessori che comunque sono nuova collezione, questi, diciamo questi, ne aveva uno indosso adesso, sì ho lasciato questo perché volevo far vedere, perché tante dicono sì ma potrebbe bastare la collana piuttosto che, io di solito parto abbastanza addobbata perché mi piace farvi vedere le varie soluzioni, ovvio che se mettete il bracciale, che è bellissimo, non mettete il gioiello per la vita, ovvio che se decidete di dire a me piace molto 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 questo abito portato con questa cintura, la portate, guardate la scolatura di questo abito, la meraviglia, la portate semplicemente, magari anche un po' troppo, che dici, ecco, la portate semplicemente così, scusate, lo alzo, così vedete, lo scollo, la zip, bellissimo il discorso cintura a 15 euro, sono riprese ma è fantastica, stai facendo vedere i buchi sulle spalle, fai vedere tutto quello che vuoi, però ragazze è quasi incredibile, questa collana non pesa assolutamente nulla, è bellissima, meravigliosa, ma l'avete vista ragazze, perle, cosa devo dire, cristalli, agata, madre perla, cioè è una cosa incredibile, qui abbiamo sortito tutti i nostri braccialini, andiamo a farvi a farvi, dai venite con me ragazze, allora i nostri braccialini, guardate qui, tutti li ha sortiti ieri, sono tutti a 5 euro, nelle nuove coloriture, guardate la meraviglia, io ho preso, vedete, questo misto e l'ho abbinato con questo colore naturale e le nostre, diciamo così, spille, che le potete guardare qui, questo è il nostro soggetto al quale diamo sempre una grande importanza, ieri sera, incredibilmente, prima di coricarmi, una farfallina girava dietro il mio cuscino del letto, Kate, ci puoi credere oppure no, e mi sono sentita coccolata, ecco questa è la sensazione nei momenti del bisogno, coccolata, come per dire, io ci sono, sapete cosa vuol dire, tant'è che ho, sono andata a riprendere, vieni pure da me, perché adesso sto parlando, sono andata a riprendere le carte che al mio complanno mi avevate mandato le carte delle farfalle e mi sono detta questa mattina ne prendo tre a caso e devo dire che i tre pensieri che c'erano scritti mi hanno molto confortata e mi hanno fatto capire tante cose, tante cose molto 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 importanti, ringrazio l'amica che me le aveva mandate, infatti ieri sera ho fatto un purpurri di pensieri, un purpurri di pensieri a tutte voi, ringrazio Gabriella e non solo, siete in tantissime a dare il segnale della vostra presenza e per me è molto 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 importante, adesso basta la retorica perché chi arriva nuova direi questa chi è, prima la nipotina, poi questa cosa, ma noi abbiamo tutto dietro un significato in questa grande famiglia, non è solo una cosa così superficiale, vero ragazze? quindi sapete di cosa parlo, basta quindi mi sono, oggi sono partita col piede giusto quindi ho detto cambio pettinatura, cambio occhiali, indosso questo abito che secondo me è un colore bello, delicato, sa bene con i colori che arriveranno, sa bene con i marroni, sa bene con i grigi, sa bene con tutto ragazze, 30 euro costava 79 euro questo abito il nostro made in brescia, tutto a teli, cosa vi posso dire? Lo prendete, lo mettete in lavatrice, lo lavate e non lo stirate, manichina morbida, considerate che io indosso una 40 in questo momento, poi parte dalla 44 e arriva alla 54. Cosa dite amori miei? Un inizio così un po' particolare oggi, giusto per far sentire il cuore alle mie amiche. Qui mescolando un discorso all'altro, diciamo è un inserimento di tutti i capi nuovi, ma attenzione prezzo Outlet, quindi è una collezione a parte questo, che lo potete vedere qui, queste sono proprio la nuova collezione, chiamiamola autunno e inverno, ma è un tessuto in cadì, quindi questa è la nostra seconda linea, in questo caso parte sempre, sempre, sempre con il peso leggero. Quindi cosa posso dirvi? L'altra casacca stupenda e meravigliosa nell'altra modellatura ha 79,90 euro, quella che vedete qui 99 euro la casacca, considerate che l'omino è molto alto, quindi la lunghezza è più lunga, ma guardate la meraviglia. Io quando ho visto questo scintillare, questa specie di maculato che non lo è, con la base rosa, con queste finiture, eh ragazzi sono quei capi che mi saltano addosso e che non riesco assolutamente a trattenere. Il calzone è molto bello con l'elastico, abbiamo ML, direi 44, 46, 48, ma poteva essere, vediamo un attimo, no, questo sono solo taglie piccole, quindi non piccole, vediamo un attimo, anche perché essendo appena arrivato devo darvi un secondino di 48, 50, questo ci arriva. Mentre invece questa M e questa L e questa XL, sì, quindi 4, 6, 8, secondo me arriviamo lì, idem col pantalone e lo vedete indossato, amori miei, dal manichino, quindi bellissimo, stupendo, anche fresco se vogliamo, non fa, non fa ginocchia, non fa nulla, è un tessuto, sapete il cadì com'è, fatto, vedete, ecco, da di rondine, stupendo, meraviglioso, prezzo del pantalone, ve lo dico, 79 euro, questo, ecco, diciamo che questo sono, eh, proprio le prime chicche, poi ragazze non vi faccio vedere questo perché altrimenti o ci torniamo dopo, vorrei far vedere ancora il nostro Medin Brescia, però qualora aveste voglia di un tubino? No, ma voglio dire, lo guardate, anche questo in crepe ha sortito dalla XS alla XL, XL vestiamo una taglia 52-54, sono tutti da misurare perché sono tutti nuovi per noi in questo momento e dobbiamo capire, però sicuramente questa XS vi dico che la indosso io, quindi è sempre quel 42, hanno aggiunto la XS perché fanno solo 5 taglie e partendo dalla S era troppo, eh, era più un 44, mancava il 42, quindi nel nostro Medin Brescia riesco a indossare la 40 in questo tessuto, in questo la XS mi andrebbe benone, c'è qualche dubbio? Lo sto leggendo Maria Teresa, scrive, ti ho pernotato già tre abiti, così è scritto sul tuo WhatsApp e poi mi riscrive sotto, passo a ritirarli in negozio, a voi deve chiamare in negozio, così spieghiamo anche la differenza. Io non credo di avere tre abiti appartati per il negozio. No, secondo me ha scritto adesso, secondo me da quanto ho capito, eh, però ricordiamo che chi è qua e viene qua. Allora, se tu l'hai scritto lì sarebbe meglio che alle ore 15, 030 80 30 61, chiami il negozio, così dividiamo le due cose, ok? Adesso tanto noi siamo qui fino all'apertura del negozio, poi chiami i doni che per quanto concerne il negozio ci pensa lei, altrimenti andiamo magari a sormontare troppe, eh, troppe chat e non riusciamo a rispondere alle nostre amiche che invece hanno bisogno di assistenza perché sono un attimino più lontane, giusto? Ecco, lo so di dove sia la nostra amica. Comunque, ragazze, io adesso un attimo, se dopo volete vedere qualcosa, farei il prossimo video qui, ma ci stiamo sopra perché è bellissimo, guardate anche questo abito, S, M, L, quindi anche qui 42, 44, scontato, non vi ho detto il prezzo dell'abito ragazzi, perché sono tutti scontati, tutti i prezzi out, quindi costava 115, 79 euro il tubino in crepe. Questo bellissimo, costava 85 euro dietro all'elastico, quindi veste molto molto bene perché sono tutti dettagli e particolari intelligenti, ok? 69 euro questo, ed è delizioso, posso farvi vedere questo che sarà nuovamente il colore dell'anno, questo è bello piccino, vedete? Bisogna un attimino valutare, questa è nuovamente una XS scontato da 100 euro a 79, XS, XL, quindi anche qui arriviamo una 52, 54, misureremo per voi ragazze, io andrei un attimo a farvi, poi chiedete tutte le domande che volete su WhatsApp, ok? Io so già, Cate, te l'ho già detto appena è arrivato questo, so già chi ti chiederà questo capo, vuoi fare una scommessa alla prima chat che ti arriva? Vediamo. Tu non hai capito chi è, ma appena ti arriva capirai, lo so già, a meno che sia in serio e non riesci a vederci, ma ci vede di sicuro, dimmi Cate. Allora, due messaggi, abbiamo Maria che scrive, chiedo se posso cambiare questo abito con il Tiffany, aspetta che è partito, allora, chiedo se posso cambiare questo abito con il Tiffany, anziché il Bluette, grazie mille, a meno che non ha appena scritto. Non lo devi chiedere qui, se hai un abito Bluette, ascolta, 30 euro per cortesia, cioè potete farne anche tre di abiti, non arrivate nemmeno al prezzo pieno, quindi bisogna vedere se c'è la taglia, bisogna vedere le misure, credi sì, non so che cosa è appartato, scrivere per cortesia su WhatsApp, ok? Perché qui non ti posso dire chi o cosa, perché sarebbe troppo semplice, potete capire che siete numerosissime e detto così, non so cosa. Comunque, ripeto, da 79 a 30 euro, quindi dov'è il dubbio di fare due abiti così? Perché se vogliamo dirla tutta, io prendo per dire, vabbè, potete fare... Sì, così vedo la luce. Sì, potete, cioè, voglio dire come si fa, ma dico come si fa a lasciare qua un abito a 30 euro. Dai, ditemelo voi, ditemelo voi, io adesso ovviamente ho misurato questo colore, quindi figurati se non piace questo colore, non misurassi nero, non misurassi questo colore, non misurassi brucina, cioè devo dire che è una favola. Ti dico subito che se l'hai appartato da qualche giorno, no, perché abbiamo tolto, te lo dico già, perché abbiamo tolto magari un abito a qualcun altro, quindi se si fanno delle richieste, quelle restano, è una decisione che io metto, è un puntiglio che scrivo, anche per precisare un'altra cosa. Capisco perché anch'io sono una che si mette, soprattutto mi metto sempre nei panni degli altri. Se per dire la giacca del tailleur era a 89 euro, centinaia, centinaia, centinaia di voi l'hanno comprata a 89, poi viene un giorno che la si mette a 69, poi viene un giorno che la si mette a 59, viene un giorno che la si mette a 49, ok? Bene, se capita nel frangente che prepariamo le cose, voi effettuate tutto quello che dovete effettuare, cioè la fine dell'ordine, e noi abbiamo tutto pronto per spedire, e prepariamo i pacchi e tutto, e poi nell'asso della mattinata o del pranzo si decide, è rimasto questo, mettiamola a 49 per far star bene le nostre amiche, c'è sempre un momento di inizio, che non sarebbe mai quello giusto per nessuno, ok? Però, allora, o continuiamo a vendere le giacche e gli abiti a 79 e a 89 le giacche, oppure arriva un giorno dove, da 79 sono passati a 59, poi a 39 e poi a 30, capite che manca una settimana dalla chiusura, per dire, del negozio, andremo anche noi in vacanza, 15 giorni e ci riposeremo. Quindi, abbiamo tutto il diritto, il dovere soprattutto, di abbassare i prezzi per farvi star bene e per finire quello che è la nuova collezione, quindi non bisogna più guardare indietro, avete preso per dire una giacca a 89, li siete trovate bene? Avete preso l'abito a 79 e vi è piaciuto tantissimo? Bene, non guardate quello che l'avete acquistato, altrimenti noi a ritroso che cosa dobbiamo fare? Certo è che se avessimo lì il capo ancora da spedire, se ce lo fate notare, perché io non posso sapere chi di voi ha là un capo da spedire, e quindi per l'amor del cielo non possiamo rivedere tutti gli ordini, altrimenti, capite, diamo un orario, cioè dal mezzogiorno quello che è stato fatto fin lì resta fin lì, dal mezzogiorno in poi si può fare la variante di dire riabbassiamo il prezzo prima di spedire, ma saranno poi pochi pezzi, cercate di capire cosa sto dicendo. Non è un discorso complesso, ma è un discorso che mi piace fare, giusto perché c'è sempre un minuto, un inizio, di dove noi dobbiamo cominciare a fare un prezzo e variarlo, capite amore miei? Quindi nuova collezione la potete vedere qui, guardate, cioè se diamo un'occhiata al negozio, cioè se fai una carrellata così con tutti i capi nuovi e anche prima con le nostre giacche di là, con le nostre casacche made in Brescia che stiamo lavorando benissimo, cioè potremmo dire siamo già tutti allestiti con capi che costano toft, ecco sappiate che l'80% di quello che c'è qui in questo negozio lo stiamo vendendo a 30 euro, salvo le giacche a 49 euro, qualche abito qui a 39 e a 49 per il resto ragazze. Tutto questo stendino, così adesso veniamo qua, le nostre amiche si, sicuramente avranno gli occhi che stanno già girando e balzando perché la vostra Gabriele non è qui a pettinare le bambole come dico sempre, corro 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 ma corro sempre per procacciare cose belle e affari per voi, quindi oggi grandi affari, grandi bando alle chiacchiere, non mi interrompete più se c'è qualcosa scherzo, ditemi tutto quello che volete e cercherò di fare il più veloce possibile. Tutto a posto Cate? Sì, c'era una richiesta per vedere l'abito oro, ormai sei passata. Va bene, se però ce l'hanno richiesta facciamelo vedere. Fa parte del nuovo arrivo sempre, diciamo, prezzo Outlet, quindi ricordiamo che il prezzo Outlet è, sono tutti articoli della collezione precedente, quindi tutti scontati. Questo abito in realtà costava 129 euro, scontato a 89 euro. Quindi dietro è in jersey e in mallina, ha lo spallino, vedete, in elastico, molto molto bello, con questo drappeggio davanti e dietro. Meraviglioso, ragazze, stupendo, 89 euro questo abito, ok? Sotto è come se avesse un abito a tubino nero e la taglia, vi dico subito, è SML, 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 ok, SML perché la XL non è stata fatta, però penso proprio che considerando questo vestiremo fino a una 48, sicuro, 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 48,50. C'è anche, sempre prezzo Outlet, guardate la meraviglia, di questo giacchino a 49 euro invece di 70, che ha la Georgette sul fondo della manica, la Georgette sul fondo, vedete, dà la vita in giù e è un, praticamente il bordo, che sembra, guardate, poi è tutto jersey come dietro dell'abito, si può vendere anche, diciamo, su altri capi, quindi sfuso, 49 euro, è un completamento di tutto quello che... Poi qui abbiamo tantissime cose meravigliose, posso soffermarvi a farvi vedere questa maglia, guardate la meraviglia, qui abbiamo però solo due small e due medie, ma sono fantastiche, scontate da 70 a 49 euro, guardate la scollatura. Chi di voi ha preso questi calzoni del nostro Medimbrecha? Potete sicuramente abbinarla, vestibilità 42, 44, 46, sicuro, ok? È stupenda questa scollatura a V, è stupendo anche il prezzo. Poi ragazzi, qui vi farò vedere pian piano perché, 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 scrivete su WhatsApp. Passiamo di là, dai, perché facciamo vedere tutto, lasciatemi finire questa parte, che qui abbiamo prezzi a 20 euro e tutto a 30, ragazze, tutto a 30. Finiamo tutti questi articoli, così voi ve li utilizzate ad andare in vacanza, noi chiudiamo e, come avete visto, partiremo poi con tutto quello che c'è e della nuova collezione, dei prezzi Outlet, sapete quanti video e quanto tempo avremo davanti per coccolarli? E se devo dire, tutta anche per farmi coccolare, che io ne ho sempre, sempre, sempre bisogno, lo sapete? Eh? Ci sono le mie amiche? Certo che ci sono. Bene. Allora, ultime due camice recuperate giusto ieri mattina, guardate, le ultime due, sono 2,42, vestono abbastanza bene, sono rimaste proprio le due fantasie, Cate, nemmeno parlo apposta, quindi a 20 euro, anche perché ci sono tantissime amiche nuove, quindi queste sono tutte camice prodotte a Brescia, quando dico Medin Brescia è Medin Brescia, con i bottoncini stupendi, tutti in tinta, in rosatello di cotone, chi di voi ce l'ha nell'armadio sa di cosa parlo, l'ultima t-shirt a 20 euro, guardate, taglia 42, 44, con tutto il suo gioco di pizzi e via dicendo, questa ovviamente costava 40 euro, quindi a 20 euro stontata, 20 euro gli ultimi due pezzi, ultimi due pezzi questo copri tutto, meraviglioso, lo potete usare come camicia, come copri costume, come mini abito, come volete, a 20 euro ragazze, ultimi due fino alla taglia 46, dimmi Cate. È appena arrivata, Gabby cosa mi sono persa? Gabby cosa ti sei persa? Ma non eri a casa che non stai bene? Gabby cosa ti sei persa? Torna indietro, ti sei persa questi, che non so se tu hai già acquistato, comunque a 30 euro, qualora tu avessi acquistato qualche altro colore, non hai niente altro da fare che aggiungerne altri, qualcuno di voi sì, ha già fatto questo abito, ma ragazze 30 euro, ma mi piace la rossa Gabby oggi, ho voluto fare così la diversa, ovviamente ragazze ho appena messo il bracciale insieme alla collana, giusto per farvelo vedere, o fate uno o fate l'altro, bracciali da 5 euro e le spille 15, io questo me lo dovrò fare Cate perché per me è troppo bello, c'è un colore neutro che si mette su tutto, ma messo qui mi piaceva tantissimo, il nostro gioiello per la vita, decidete voi, lo trovate sulla voce catalogo, quando andrete a scrivere su whatsapp, perché è su whatsapp che dovete scrivere, vero bimbe, che avete imparato la lezione, che dici Cate? Spero! Ancora io vedo che sotto mi chiedono i numeri di telefono lì, li trovate dappertutto, quando mettete Gabriele Sabigliamento Donna vi esce il numero dappertutto, tutti i post, tutti i video hanno sopra la dicitura con tutti i numeri, sulla descrizione della pagina, ma voi siete andate sulla pagina Gabriele Sabigliamento Donna e avete messo il mi piace, così vi arrivano le notifiche quando inizia, così vedete, potete cliccare anche sulla posizione, il nostro sito ragazze è la nostra casa aperta a voi, vedete l'accoglienza che vi ho scritto e trovate tutti i tasti per arrivare dappertutto, sia sul canale youtube, sia sul canale di whatsapp, qui, sì, facciamo così il canale, il tasto per arrivare su whatsapp, comunque, scegliete voi, non sono arrivati sicuramente ancora i numeri fissati, ah, sono già arrivati, perché la vostra è fermata da qualche parte a scriverli, se l'ho dimenticata, sotto ogni video trovate i numeri fissati lì sotto, quelli che sicuramente intravedete in questo momento, sceglietene uno e state su quello, gonna 20 euro, l'ultima rimasta ragazze, un tubino in, o l'ho venduta fino alla taglia 46, molto molto bella, un tubino in viscosa, quindi un tessuto naturale, e non guardare là dietro per cortesia, per guardare là dietro perché qualcuno si dice di guardare là dietro, si, presumo di sì, si, basta, la L è anche 8, è una maglia corta, sì, anche 8, però, 2468, lì resta e lì si ferma, purtroppo vi abituate sempre troppo bene, è una linea, lo sapete, anche questa, molto seria, molto bella, però, che ve debbo di, ragazze, poi magari su whatsapp voi chiedete che vi giriamo le foto, e facciamo magari solo un video anche per quello, ora, ultimi due abiti a 20 euro, vogliamo vederlo, fucse e lilla, sono stupendi, 40, 42, 44, lo metto anch'io questo, quindi come misura arriva fino lì, e sono arrivati questi, quindi a 20, ultimi due casacche a 20 euro, potete scegliere di mettere sotto il nostro pantalone, quello con l'arriccio, semi palazzo, perché è poi lo stesso filato, tutta doppiata, meravigliosa, prendete la manica, la girate su, la mettete una sera, adesso, qui oggi, prevedono, so, allerta arancione, speriamo di no, ragazze, ok, speriamo di rivederci nel prossimo video, comunque, 20 euro, 48, 50, 52, 54, ok, 20 euro queste casacche, e 20 euro questo bellissimo abito, perché avesse un fisico da 40, 42, di quelli che siete abituati a portare, guardate il filato, com'è, è molto molto bello, vedete, non è nemmeno troppo trasparente, è bellissimo, chi si può permettere questo fisico, ok, 20 euro questo abito, ditemi voi se non è il caso di acquistarlo, dimmi a te. Patrizia scrive, sì, sono in letto, ma niente nipote, ha una televisione che ha Facebook, e ti sto vedendo in TV, devo dire la verità, è bellissimo vederti in televisione. Ah, certo, ma sì, ragazze, potete anche, quando siete, certo, sì, sì, capita che quando voi lo vedete, avete la televisione collegata, c'è un tastino sopra dove vi dice, volete vederlo in TV, allora, la vostra Gabriella è tutta grande, così vedete anche tutti i suoi difetti, eh? Amori, dimmi. Rita, buongiorno, io sono nuova, vi seguo sempre, avrei piacere di diventare una vostra cliente, siete fantastiche. Grazie. A me interessano i pantaloni classici, misure, punto, grazie. Allora, le misure le devi scrivere su WhatsApp, sai come si fanno a prendere, per il pantalone vita e fianco, e per il resto anche il seno, pantalone classico ne abbiamo sempre, a parte nel momento così della transizione, quella magari dipende da che taglia manca, anche perché in questo momento abbiamo tutti i pantaloni a 30 euro, il loro prezzo iniziale era 59, non so cosa riescono a contenere i ragazzi, se saranno 59 o 69 nella nuova collezione, i prezzi non li so ancora, e a dirvela tutta non so nemmeno la collezione, perché certi capi sono a sorpresa anche per me, però vi posso dire che questo calzone è sempre un bellissimo classico, è una taglia 50, lo si veste anche fino a una taglia 52, 54, se lo volete più fasciato, ovviamente dovete metterci qualche casacca magari lunga sopra, tipo questa, quella che indossava Simona, che è bellissima, ok? tutto a 30 euro scontato, questo è viscosa, in jersey, molto ma molto ma molto bello, quindi 30 euro, l'ultimo rimasto, bellissimo, il rasatello di cotone, stupendo, meraviglioso, è una 48, veste bene ma 48 è, massimo una taglia 50, quindi purtroppo ce l'hanno chiesta intanto nella taglia più grande, ma non è possibile, è semi elasticizzato, ma non è jersey, non è come questo, quindi ha un punto fermo, ok ragazze, 30 euro, 30 euro l'ultimo, dico ultimo, jeans taglia 40, vedete, fatto così, ha un gaucho bellissimo, super elasticizzato, quindi ragazze, è una XS a 30 euro, ok? Questo stand è tutto a 30 euro, i nostri due calzoni, che poi voi potete scegliere, guardate, là sono arrivate delle casacche meravigliose dall'altra parte, oppure, facciamo così, questi sono scontati a 30 euro e sono terza, quindi sono terza malandrina, quindi sono un bel 48, 50, ok? Però, se vogliamo dirla tutta, lo potete abbinare anche con le casacche che sono arrivate adesso, tipo questa, guardate, questa è una XL malandrina, guardate che completo andreste a fare, allora, questa scontata da 75 a 49 euro, ok? Quindi, ci sono tantissime cose per la quale anche questa è molto bella, questa, stando sempre, allora, abbiamo tutte le taglie, SM, L, XL, ok? E, guardate qui, potete, anche questa ha il pezzettino di manica, è fatta diversa, sempre finita con un bordino dorato, vedete quanto è bella, ecco, anche questa scontata da 75 a 49 euro, quindi, cominciate ad accappararvi il calzone a 30 euro, dopodiché vi diamo tutto quello che è possibile darvi sopra, le nostre casacche, il nostro Made in Brescia, poi giriamola dietro che ci sono anche quelle scontate, questo video non voglio farlo troppo lungo, sapete che abbiamo di tutto, potete fare anche una miscela tra quello che faccio vedere oggi, quello che ho fatto vedere due giorni fa e, diciamo, i video che abbiamo fatto vedere questa settimana, sicuramente c'è abbastanza assortimento per vedere una cosa, l'altra e quell'altra, poi chiedete su WhatsApp, ok, e noi da lì vi possiamo dire, ti abbino questo, ti abbino quello, ti abbino quell'altro, ok amori, questo, quindi è uno stand da, diciamo, proprio fine, 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 fine stagione, perché abbiamo una settimana davanti per lavorarlo, ragazze, 30 euro questo abito, è una taglia 44, è meraviglioso, stupendo, guardate ragazze, vi devo dire che è bellissimo, vi avete sempre chiesto gli abiti midi, fino a un certo punto, questo lo è, l'ultimo rimasto, potete anche scegliere di portarlo leggermente giù di spalla, io direi una bella 44 e qui siamo a posto, ok, 30 euro anche questo, 30 euro questo meraviglioso, adesso non guardiamo più i prezzi in rosso perché li ho modificati, taglia 42, 44, può essere, se potete mettere sotto un pantalone bianco, io lo porterei così, perché d'altra parte è comunque un mini abito, siete al mare, copri costume, di questi pizzi se ne vedono tanti di tutti i generi, questa è la nostra linea diciamo ufficiale, quindi qualità all'ennesima potenza, 30 euro anche questo, quest'altro ha una, come vi dicevo, una vestibilità maggiore, quindi tutto in pizzo con questa scollatura, con questa manica, voi pensate di prendere un pezzettino di pizzo e immaginatevi queste bordure, tutto quanto, quanto può costare, bene, 44, 46, 48 e lo abbiamo così e nero in questo modello, guardate la meraviglia, ok, richiamano proprio uno stile particolare, questo che non posso menzionare, ma è proprio uno stile particolare e sicuramente l'avete già inteso, 30 euro, 44, 46, 48, sono, ah, c'è anche questo, c'è anche questo colore, è meraviglioso, quindi abbiamo tre colori in questo, eh, 30 euro questo, chiamiamolo abito, questo camicione, questo copri tutto, come volete voi, copri costume, quello che volete, qui sono rimasti due a 30 euro, nero e lilla, in cotone sangallo, guardate, quello che poi lavate e non stirate, cosa hanno di bello questi qui? Che sono tutti aperti, quindi potete dire, lo uso, con sotto, non so, una canotta bianca, un pantalone, tipo copri tutto, è stupendo, meraviglioso, la taglia, sicuramente qui arriviamo fino a una taglia 50, 52 sicuro, dalla 46, 46, 48, 50, 52, però misuriamo con le vostre misurine, ok, Gioia? Ok, ti vedo silenziosa, Cata, anche super attenta, sono attenta anche io, allora, quindi tu ricordami, e se sbaglio qualche taglia, anche questa, quella che vi dicevo prima, 46, 48, 50, 52, ok, e 30 euro, tutto questo stand è a 30 euro, ragazzi, questo fino alla taglia 54 e oltre, ma partendo dalla 48 in su, è bellissimo, ragazzi, è questo colore sabbia, è stupendo, è freschissimo, lo tenete a stare a casa, siete alla casa, al mare, cioè, fate quello che volete, ragazzi, con queste cose qui, quando le avete poi, che, non so, settembre, fine settembre, le metterete da parte, perché queste lo farete, le tirerete fuori l'anno 21 e vi ricorderete forse sempre della vostra Gabriella Luciola, e sarete pronte a ripartire. Mi hai chiamato, Cata? Sì, ciao, sono Priscilla, mi saluti. Priscilla, è un piacere, non so di dove tu sia, eh, magari lo scrivi lì, che sono state facendo le nostre ragazze oggi, che giorno è oggi? Venerdì. Venerdì 4 agosto? Oh, secondo me, tante di voi sono in vacanza, a meno che tante di voi stanno tornando, chi lo sa, perché qui direi che vi siete abbastanza ben miscelate quest'anno, secondo me, quindi, ditemi dove siete, che così dopo, quando vado a leggere i vostri commenti lì, non per le richieste, mi raccomando, ma quelle me le fate su WhatsApp, eh, Vero Priscilla, se avessi voglia, se invece avete solo voglia di seguirmi, sentitevi libere di fare quello che volete, però io direi che a questi prezzi, un certo languorino potrebbe venirvi, che dite, ragazze? Allora, bellissime queste casacche in viscosa, queste casacche sono abiti in viscosa, freschissimi, tu me li puoi confermare, Cate, vestibilità ottima, fino a una taglia 52, 54, tranquillamente, facciamo 52, la manica è bella morbida, guardate, 52, 54, sono deliziosi, ho riassortito anche questo colore, quindi guardateli qui, tutto a 30 euro, ragazze, ma anche una taglia 48 lo mette, non è che dovete assolutamente porvi questo problema, quindi, patria, anche tu che sei a casa, qualora con un infradito, vai a fare una passata, quando starai meglio, cioè questo è un abito che lo metti così, proprio senza nessun problema, considerando di averlo pagato anche 30 euro, questo è meraviglioso, 30 euro anche questo, cos'è? Questo è viscosa e lino, anche questo 48, 50, 52, sicuramente, dovremo vedere per una 54, lo dobbiamo misurare, molto bello con la tasca, molto molto fresco, questo è veramente di alta qualità, costava 59 euro, scontato a 30 euro, ok ragazze? Stesso, diciamo così, modello dell'altro, queste due fantasia che sono deliziose, sempre in viscosa, e vedo che sorrisi, sorridi, la viscosa è una fibra naturale, ricordatelo ragazze, quindi dovrebbe avere anche un certo prezzo, ma tutto questo oggi a 30 euro, ok? So che poi li abbiamo abituati, poi facciamo un giro a vedere il nostro verde in Brescia, che so che vi manca, di sicuro, questo bellissimo, lo abbiamo in più colori, quindi fucsia, orchidea, blu, molto bello anche blu, guardate la meraviglia di questo abito, questo me lo sono preso anch'io e me lo metto in casa, in tutta libertà, anche a piedi nudi, di scalzi, è proprio quella cosa che lavo, non stiro e metto, perché è proprio tutto cotone, quindi ragazze, non lasciatevi condizionare, fate questo abito, perché è davvero carino, 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 andiamo a vedere i palloncini, cosa abbiamo? 3, 3 e basta ragazze, questa è la persona che l'hanno saccata e lo sapete, 30 euro, 1, 2, 3, indossato fino a una taglia 54, 56, c'è che dice 100 quanto seno? 130, 130 di seno, è il tuo carino? Sì, è, quindi? Sì, sì, il mio davanzale, il mio balcone è fiorito, il mio balcone è fiorito, ci sono i fiori aili, un po' di tutto, dipende chi lo chiede, allora ragazze, tranquille, che va benissimo, ha le nostre bellissime morbidose, 30 euro ragazze, non so, non lo so, non lo so, non lo so, cosa adesso vi deve, sì, ha ragione Carmen, che sei storica per quello che non vi saluto, c'è Carmen che scrive, sono Carmen, mi saluti anche a me, e poi c'è Rosa, detta anche Petalina, saluti anche a me, mi prendono in giro, ho visto l'altro giorno che la nostra Carmen dice, eh vabbè però non mi salutate mai, ma smettila, no, 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 non è colpa, perché io sono da questa parte, non è che selezioni i messaggi, assolutamente no, vabbè non è che li puoi leggere nemmeno tutti, se no io mi metto qui, esatto, però tante volte scorrono, l'importante è che poi quando io vado di là, a volte vi rispondo, a volte mi metto un emotion, comunque so che ci siete, ma voi ditelo sempre perché vedi come in questo caso il messaggio è arrivato, certo, e poi posso dirvi una cosa, che ci siete io lo so sempre, quindi, e non solo voi due, ma tantissimissimissimissime altre, vi ricordo che chi di voi non vede il video in diretta, lo può vedere in differenza, voglio sapere cosa ne dite di questo abito indossato oggi da me a 30 euro, costava 79 euro, ecco, cioè ragazzi, quindi la proporzione è quella, questo bellissimo, stupendo, morbidoso, fino a una taglia, sì, 54, morbida, bella, stupenda, meravigliosa, a 30 euro, è sempre viscosa, questa è quella che indossava prima Simona, ed è rimasta in questo bellissimo colore, sapete che sarà il colore che arriverà anche negli articoli più avanti, è un colore molto, molto, molto di tendenza, quindi questo camicione stupendo, taglia 52, 54 sicuramente, a 30 euro, passiamo agli abiti ragazzi, poi scegliete voi dove orientare la vostra gabbia, io chiudo l'occhio e mi dite vai a destra, vai a sinistra, vai di là, vai di là, andiamo a vedere magari un po' di manichini, allora questi sono gli ultimi due, no, aspetta che ce n'è ancora uno qui, ecco qua, allora aspetta un attimo, così vi faccio vedere i colori perché li avrei assaltiti proprio settimana scorsa, verde, beige, nero, ragazzi, io non l'ho ancora indossato perché non so mai chi favorire che cosa, ma questo abito vendutissimo dalla 42 che indosso io e ho una foto proprio che ho girato a una di voi e avete visto come sta bene, signora Natalia 50, Kate? Sì. Sì, ok, quindi è stupendo, è bellissimo, arriva in lunghezza giusto sotto la caviglia, a me sicuramente, è meraviglioso, ragazze, fatevi sotto perché l'ho scontato, cioè tutti questi abiti perché poi non scuderemo e chi si è visto, si è visto nel frattempo voi li userete tutti, tutti a 30 euro, ragazze, eh? Quindi non so cosa dirvi, 30 euro il sangallo, vogliamo andare a prenderne mezzo metro agli scampoli e vediamo che cosa costa questo sangallo bellissimo, meraviglioso, taglia 42, 44, 46, questo, questo arriviamo fino alla 50, a 30 euro, dimmi fra te. Monica, ti leggo come c'è scritto poco finemente, tasse bella o fes? Ah, che è la Monica Chino, lo so, lo leggerò, eh? Bene, la mia Monica, eh? Di, eh, non diciamo neanche il luogo, dai, facciamo così, tasse bella fes, grazie! Spero stai bene Monica, spero stai bene, sei una che tutte le giornate, quando magari mi alzo, perché capita a tutti, no? Le giornate, no? Che me capitano, e ecco, sei una che prendo sempre come esempio, quello che quando arrivassi mi dicessi, io voglio venire una volta a trovarti, toccare con mano e vedere bene i tuoi capi, quando un giorno non riuscirò più a farlo, quindi, 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 Monica, non preoccuparti che la tua Gabri ti assisterà sempre, e finché mi vedi bella fes, io sono felicissima, felicissima, e ti voglio un bene dell'anima, io questo abito ce l'ho, quando ho caldo e voglio sentirmi bene, qui devo dire, eh, 42-44 la taglia, ok? Bellissimo, stupendo, meraviglioso, sì, ci può stare anche un 46, ragazze, perché, allora, essendo elasticizzato, sul punto dove deve esserlo, cioè dietro, vedete che arriverebbe anche un 48, cioè dipende dalla profondità del seno, quindi io qui vi dico, 2-4-6 sicuro, a 30 euro, io l'ho già lavato, anzi ce l'ho lasteso nella mia lavanderia, è meraviglioso, 30 euro, ditemi voi, vi dicate. Carmen, il pacco ricevuto è tutto ok, io ho scoperto che riesco a fare un sacco di abbinamenti con i capi acquistati in passato, questo dillo, Kate. Sì, perché, questa è una prorogativa dei nostri capi, quando voi prendete, ma io dico qualsiasi cosa, qualsiasi colore, poi lo dico sempre, dilettatevi da sole voi, ah, infatti dico, non mettete mai via le cose, è difficile che scartate uno dei nostri capi, io, perché ho gli armadi strapieni, perché non riesco mai a scartare nulla, ma anche se una cosa fosse datata di 20 anni e la vado a prendere e la tolgo dall'armadio, trovo sempre un abbinamento da fare, quindi dilettatevi a farlo, che è anche un bel passatempo e soprattutto aiuta anche la mente, il decidere cosa mettersi il mattino, per essere magari più bella, io direi sempre per noi stesse piuttosto che per gli altri, però ovviamente fa piacere a tutti, però in primis queste cose fatte per noi stesse, che ci aiutano, a me hanno sempre aiutato nei momenti di difficoltà che ho passato nella vita e questo mi aiuta tuttora, capite? Poi magari ci sono, mi capitava anche di fare le settimane, quindi 4-5 giorni con lo stesso abito, lì è sinonimo di crisi, però magari perché corri, perché fai, perché sbrighi, quindi non mi piace questo aspetto, mi piace molto quando invece c'è la verba di dire, dai, oggi cosa faccio? Ho un'amica che abita qui vicino, la nostra Marisa, che anche se lavora 12 ore al giorno, qualsiasi cosa, puoi dirlo anche tu Kate, che quando arriva, quando viene, quando mi porta a bere un caffè, insomma, sembra che arrivi da una vacanza, mentre invece arriva da un'azienda anche molto impegnativa, ecco, questa è la cosa che bisogna anche guardare nelle persone, e cogliere magari anche questo insegnamento, di dire, se ce la fa lei, ce la posso fare anch'io, quindi, se ce l'ha fatta la nostra Gabi in tutti questi anni, con le sue alte e basse, le sue paturne, come posso vedere io, uguali alle vostre, aiuta, mi ha portato sempre fuori da tante, da tante situazioni stanche, ecco, giusto, giusto per spiegarmi. Ragazzi, questo è lo stesso modello dell'abito in sangallo, quindi 42, 44, 46, ok, sono rimasti questo color blu della V che poi è meraviglioso, tutto in cotone, ragazze, a 30 euro, 30 euro meraviglioso, con l'elastico dietro, è bellissimo quando lo indossate, vediamo se, no, non ci riesco, oggi non ci riesco, però l'effetto dell'abito è questo, è stupendo, tela di cotone, lo lavate, non lo stirate, qui c'è anche il blu notte, questo cos'è? Vediamo, sì, è blu notte o è nero, ho un dubbio, ma lo definirei nero, anche io in parte al blu, vedi che è diverso, sì, sì, io lo definirei un nero particolare, ma è nero, sì, è nero ragazze, quindi beige e nero, stupendo e meraviglioso, 30 euro, guardate se vale la pena riprendere questi capi, e qui andiamo, l'ultimissimo, ah c'è ancora questo colore meraviglioso, questo l'ha preso la Susie, stupendo, fantastico, quindi garantito fino alla taglia 46, ok ragazze, 30 euro, questo abito, quindi vedete, non prendetevi la soggiorno, lo comprate a 39, da 49 a 30, beccatevi il vostro affare, quando decidete di beccarvelo, quindi in questo caso, questo bellissimo in raso, stupendo, tagliato sotto il seno, bellissimo, fino a una taglia 44, 40, 42, 44, a 30 euro, è un raso in crepan versatene, stupendo e meraviglioso, nero, quindi ci fate anche qualche seratina, 30 euro, e questi, che ve lo faccio vedere così, giusto per farvi vedere il colore, questi li ho riassortiti, e li avevo anche l'anno scorso, venite a vederlo qui, ancora, no, qui l'ha messo giusto, guardate, praticamente allacciato, annodato, questa è la scollatura, ma quando voi sciogliete questo, lo potete tenere più scollato o meno, abbiamo messo la cintura, questo abito, guardate, 20 euro la cintura, che abbiamo appena scelto i colori l'altro giorno, e abbiamo ripreso l'oro, farla vedere, perché me le stanno chiedendo in tante, vogliamo vedere la borsa, l'ultima, 49 euro, è meravigliosa, guardate questo completo, questo potete prenderlo dalla 42, 40, 42, alla 50, tranquillamente, 52, perché questo abito si estende in schiena, ed è meraviglioso, ditemi voi, 30 euro questo abito, se non è bello, perché, a dire la verità, guardate come sto venendo anche con il Tiffany, che dite ragazze, quindi, devo dire che qui abbiamo completato, facciamo una carrellata a vedere il nostro Made in Brescia, volevo non rivedere il tuo abito in taglia 52, Va bene, allora, questo lo facciamo rivedere in taglia 52, starà benissimo, è morbido, quindi, questo 52 lo veste anche a una taglia 54, questo arriva a 52, il nero, per dire, arriva anche alla taglia 54, voi vedete che questo essere aperto, non è, cioè, dobbiamo dare un po' di grinta a un abito che potrebbe apparire classico, perché questo è un abito che andava, ed è stato comprato, a 79 euro, a 30 non deve più esserci neanche il minimo dubbio, cioè, non so se rendo l'idea, poi, ditemi voi, se questo, per dire, con una giacca di pelliccia, anche colore risone, ecologica, sicuramente, ma abbinato con qualcosa di bianco, abbinato, cioè, è un abito che porterete sempre, con i marroni, cioè, non è un abito che voi acquistate adesso, io trovo che ho acceso un po' di aria condizionata, sto benissimo con questo, con questo peso, ma proprio bene, bene, guardiamo un po' i nostri manichini, sì, volevano vedere il vestito nero, quello che hai fatto vedere prima aperto, che non si capiva molto bene, il penultimo, nero, quello che è sullo stendino, quello in fantasia, no, nero, nero, proprio tutto nero, ok, andiamo a farlo vedere, vi ho detto 40, 42, 44, eh, ragazze, quindi, vediamo qui, apriamo lo snodo, facciamolo vedere qua, praticamente, è un abito sottoveste, ragazze, con l'incrocio dietro, vedete, prende sul seno, arriva fino a una bella 44, tranquillamente, dietro all'incrocio, vedete, così, con gli spallini, e davanti, questo incrocio non è in vita, ma è tagliato sotto il seno, vedete, meraviglioso, con lo spacco, cioè, questo abito 30 euro, 40, 42, 44, sicuro, 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 lo posizioniamo qua un attimo, così intanto lo vedete, e poi potete utilizzare, sì o no, la sua cintura, ok, è bello sostenuto, non è fodera, è proprio, quando dico crepa, un versatel, è corposo, ultima, proprio ultimissima casacca, a taglia 42, a 30 euro, l'ultima, ultima, 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 poi, se volete, facciamo vedere qualcosa, i nostri abiti, a 30 euro, anche questi, meravigliosi, quelli che indossavo in qualche video precedente, quindi, sono, praticamente, lo stesso tessuto, vedete, questo è il modello, io l'ho indossato, ho indossato questa, esattamente, taglia, era una 44 bianco, perché nel bianco, ragazze, potete, anche, eh, prendere una misurina in più, negli altri colori, tengono di più, e quindi potete prendere anche una taglia in meno, qui abbiamo 40, 44, 46, 40, 42, 42, 46 nero, e, e ancora qualcosa di questo bellissimo, guardate, questa taglia 52, ragazze, come non permettersi, visto che l'avevate chiesto anche in questo, in questo abito, ehm, una rapprecciazione, a me lo vedete leggermente, eh, più corto, perché, ovviamente, eh, ho una certa taglia inferiore, man mano sale di taglia, si allunga, cioè, diventa tutto proporzionato, ok, ragazze, quindi, eh, tranquilla che non è un abito corto, hm? qui abbiamo il nostro calzone, eh, a 30 euro, il nostro Made in Brescia, in Bengalina, qualche casacca di queste, ma poche, riassortite stamattina, abbiamo SMXXL, che è questa, quindi la potete portare con disinvoltura al limite, si allunga solamente, ma non va a incidere, e l'ultima rimasta, ragazze, è questa, proprio ultima, non ne abbiamo più, a 30 euro, ecco perché li abbiamo messi a questo prezzo, quindi, ragazze, da qui, alla chiusura del negozio, cioè, fatelo, che poi, eh, ve lo sfruttate, eh, vuoi che facciamo un giro in queste qui, e poi vi facciamo vedere il resto, se no, andiamo un attimo di qua, tutte quelle che vedete qui, le stiamo lavorando tantissimo, ragazze, sono tutte a 30 euro, tutte, 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 ho trovato questa mattina anche un nero, una taglia 42 di questa, che è meravigliosa, quella che ha praticamente il, Virna bianca non è ancora arrivata, eh, arriva settimana prossima, che me l'hai chiesta ieri, eh, mi ha chiesto il bianco, in questa modellatura, ne arrivano ancora due o tre, questa, che ha il jersey dietro, eh, la vedete, tutto 30 euro, tutto il nostro Made in Brescia, vedo che queste qui le abbiamo vendute tantissimo, queste con la coda, c'è ancora qualcosa in giacenza? Sai che non lo so. Forse sì, forse no, chiedete ragazze, perché qui è l'ultima rimasta, ma se c'era, c'era fino a una taglia 46, si, mi ricordo, ok, perché vi ho detto che come colore andrà molto in auge, anche nella cazzo che arriverà, ma tutti questi colori, perché questo lo metterete sotto al viola, questo lo metterete sotto ai marroni, eh, ci sarà il rosa antico, eh, ci saranno tanti bellissimi colori, ci sarà una specie di ottagno molto molto bello, che ha a cavallo di tutti quei colori lì, quindi, ragazze, abbiamo tante di quelle cose che, guardate, non so da che parte, questa intanto fatela, che la portate con tutto, con un jeans, con il pantalone, 30 euro, ragazze, questa, posso dirvi, assortita, abbiamo 44, 50 e 54, poi magari, vedo che sono state strarichieste, perché l'ho sortita ieri mattina, non ce ne sono già più, questa è l'unica nera, ed è taglia 42, infatti Alessandra scrive, ammazza che veloci, sono lì ieri, e avete cambiato completamente il negozio, tentatrici, tentatrici, eh sì, quando la Gabri dice, parto, vado e spacco, considerate che tutti questi capi che vedete, li carico da una parte, li scarico dall'altra, li sbusto, li prezzo, e li posiziono, perché qui, la mano, è la mia, quindi, con l'aiuto di Doni, in un'ora, ho ribaltato tutto, e vedete che si può dire, che il negozio è allestito, per la partenza, perché con questi pesi, questi, facciamo vedere anche questo abito, così hanno, la, anche perché cosa ne sono rimasti, due, con questo, due con questo, e l'ho messo a, mi sembra, un prezzo, adesso andiamo a vederlo là, perché non voglio ribaltarlo, dov'è il cartellino, non lo so, aspettate che vado a dirvelo di là, Doni mi dice questo prezzo scontato, grazie, questo, perché non trovo il cartellino, è lì vicino a te, grazie, da 99 a 50 euro, ecco, perfetto, da 99 a 50 euro, questo abito, sotto praticamente, lo vedete qui, è una, avete visto, è indossato la nostra Marina, c'è la nostra Mari? Non la vedo oggi, non sarà andata in vacanza, senza che io lo sappia, allora, è in Jersey, quindi ragazze, 50, 52, 54, le vostre braccia usciranno qui, avevamo avuto anche le casacche, questo volendoci ancora anche dal fornitore, comunque ragazze, 50 euro, è qui da vedere, poi andiamo agli altri, volevo farvi vedere i nostri pantaloni sfusi a 30 euro, e che cosa ha fatto la vostra Gabri, ha riunito nuovamente e riassortito tutto quello che c'era nel nostro Made in Brescia, dalla 40 le giacche, alla taglia 52, qui poi partono i tailleur, vedete, quindi per tailleur, se giri un secondino da questa parte, arrivo, 40, abbiamo questi tre colori, quindi chi di voi avesse ancora un langorino sono gli ultimi, ok, 42 abbiamo questi, a tailleur, 46, 48, 50, 52 abbiamo questi, quindi un bellissimo tailleur blu ragazze, da fare, giallo, verde, poi li scambiate voi come diceva la nostra Carmencita, l'unica 54 gialla, e poi, cioè, avete visto, vi ricordate quanti erano, quanti colori erano, è rimasta una taglia 54, la taglia che vendiamo di più, qui partono le giacche sfuse, quindi, 52 abbiamo ancora una giacca coccio, e poi, 50, 48, ma li vogliamo vedere i colori ragazze, ma li vogliamo vedere, questa bengalina qua, fino a ottobre la portate, quindi, chi ha avuto il pantalone, è arrivato un colore nuovo, che non abbiamo mai avuto il verde, questo è un verde, verde, verde bosco, verde, verde salvia, verde, verde militare, chiamiamatelo come volete, che è un colore che a tante di voi piace, guardate che meraviglia, messo con il colore orchidea, vedete, quindi potete davvero dilettarvi, come diceva Carmen Sita, ad abbinare tutte le cose che avete nell'armadio, mi sposto da questa parte, perché la luce non è massima, quindi, 40, 42, guardate, che bell'assortimento ancora, potete, davvero, 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 voglio dire, una giacca 42, così, quando è che smettiamo di mettere, tanto la sera, in questo momento, una giacca di queste, ve la dovete sempre mettere, a cavallo della borsa, quindi, 44, 46, guardate anche qua, guardate anche questi due colori, purtroppo, l'abito che volevi, Patri, in questi due colori, che mi hai girato la foto prima, non c'è più, mi spiace, dovevi essere più veloce nelle richieste, mi spiace, guardate le giacche 48, cosa vogliamo dire di questi colori, quindi, se vogliamo dirla tutta, a parte i tailleur, poi scasseggiano qualcosina, nelle taglie più grandi, bene, le camicie ve le ho fatte vedere, andiamo di qua un secondino, il nostro gilet a 39 euro, lo vogliamo vedere, 30 euro questa, 39 euro questa, cosa fa? Ladoni sulla strada, c'è fuori Ladoni, a dare un'indicazione sulla strada, probabilmente è una nostra cliente, che viene da fuori, e non sa da che parte entrare nel negozio, ragazze, 52, 54, abbiamo ancora 3 o 4 articoli di queste, che sono meravigliose, a 20 euro, guardate qui, venite pure, così vedete tutto quello che c'è, e poi da settimana prossima, vi farò degli outfit, questo colore, sappiate, che lo andate a posizionare anche, adesso vado a farlo vedere, mi viene un'idea, intanto che aspettiamo, e le nostre giacche, le avete già viste, 49 euro le giacche, e 30 euro i calzoni, questa casacca, che però c'è solo, 40, 40, 42, 44, e ci fermiamo lì, allora, vogliamo vedere, cosa possiamo fare, con una giacca di questo genere, al momento, in attesa del nostro, made in Brescia, guardate questa giacca, se non è, se è poco bello, questo abbinamento, voi pensereste, di comprarla, 39 euro, adesso di metterla nell'armadio, mi sbagliate di grosso, tanto, le avete fatte tutte, qui purtroppo, c'è 40, 42, 44, e non possiamo contentare, tutte le richieste, ma, con la giacca, 125 euro, 89 euro, prezzo Outlet, dalla S, alla XL, quindi copriamo anche, la taglia 54, poi voi date le misurine, sfoderate, semi elasticizzata, è stupenda, avete voglia di metterci sotto, magari qualche calzone, dei nostri a 30 euro, in crepe, che ora ho spostato, per fare spazio alle giacche, ma sapete che c'è anche, magari l'ottagno, c'è anche il colore, come dire, quel rosa lì, intenso, cioè, guardate qui, abbiamo anche l'abito ragazze, se vogliamo, avete voglia di tubini, dalla 42, alla 54, insomma, lasciamo lì così, che fanno le nanne intanto, e poi magari, settimana prossima, rifacciamo, se però avete qualcosa da chiedere, ragazze, vorrebbero vedere, queste qua, sì, queste le abbiamo riassortite, questa mattina, perché, veramente, e qui di nuovo, mancano le taglie, allora, forse la, e la stavo facendo vedere là, allora, va bene, facciamo qui, smlxl, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, è il nostro, made in, rescia, 59 euro, quindi, bella questa, in fantasia, belle queste, guardate che questo bronzo, è delizioso, in questo, questo tessuto, cangiante, facciamolo vedere, cangiante, lo vedete, è il nostro jersey, ma cangiante, quindi, vestiamo, dalla 40, alla 40, alla 54, rimettiamole in ordine, così, le troviamo, ah, mi sono dimenticata, c'è anche questo colore, che andrà bellissimo, sotto il verde, che andrà benissimo, sotto il viola, che andrà benissimo, sotto a tutto, o che andrebbe benissimo, adesso vado a farvi vedere, che mi sta venendo in mente, questo abbinamento, posso, grazie, questo calzone, per dirvi, allora, questo ragazze, c'è anche là, nelle taglie alte, quelle a 30 euro, perché noi, siamo talmente, diciamo così, precisi, no, che invece di prendere, le canote, che potremmo abbinarle adesso, a prezzo pieno, le lasciamo scontate, per dimostrarvi la serietà, queste poi le mettete anche, con pelle a 30 euro, ma vogliamo fare, per dire, un abbinamento così, con questa, particolare, bellissima, e poi magari, non so, decidete voi, se volete prendere, e metterci che cosa, questa sopra, fatelo, volete metterci sopra, la giacca nera, fatelo, ragazze, 49 euro, e 30, aspettate un secondino, che non voglio sbagliare, a dirvi il prezzo del calzone, 39 euro, il calzone, e sono, praticamente, tutti sfusi, questi, non abbiamo più il suo sopra, perché abbiamo proprio finito tutto, sml, xl, xxl, quindi, dalla 42, alla 54, riusciamo ad accontentarvi, ok, poi chiedete su whatsapp, che vi facciamo vedere, le altre fantasie, e tutto quanto, è, molto, ma molto bello, che, diciamo così, prendiamo questa, 59 euro, che è una xxl, prendiamo, il, eh, taglier, l'unico rimasto, taglia, 52, e cosa vogliamo fare, facciamo un completo, ragazze, col pantalone trombetta, super super giovane, cosa dite, prendiamo la bronza, la mettiamo sotto al giallo, allora, tutte queste, 59 euro, il nostro Medimberesce, appena tagliato, di questo nuovo articolo, sono rimaste queste due, bianche e nere, fino a una taglia 48, e sono, stupende, ecco, cosa tenevo a far vedere, a parte anche queste, che sono deliziose, tutte scontate a prezzo alto, 49 euro, lasciatemi il caso di dire, ragazze, pian pianino, faremo tutti gli outfit, lasciateci il tempo, e, questa invece è da fare adesso, perché questa è, tutta in discosa, con il, la me, ma, morbidissima, ok, dalla S, alla XL, malandrina, quindi fino a una taglia, poi è tagliata in sbieco, quindi fino a una taglia 52, 54, questa l'ho presa, per accontentarvi, e per dare, quel tocco di diverso, agli articoli, vedete, vogliamo mettere, per dire, sotto il taglio giallo, ma non solo, perché il bianco è oro, lo mettiamo dappertutto, facciamolo, ci mancavano, questo articolo, scontata, a 39 euro, prezzo Outlet, guardate la meraviglia, di questa, chiamiamolo, top, canotta, ma questo poi, sostituisce la, camicia bianca, diciamo, per eccellenza, una cosa così, tagliata in sbieco, da mettere sotto, un po' a tutto, ve la dovevo assolutamente, far vedere, perché l'abbiamo posizionata qui, noi siamo a partita che ora, nel video, erano un quarto, le due, sono già le tre, o? Sì, sono già le tre, vabbè, allora, 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 lo finiremo anche, ragazze, qui, giusto per farvi vedere, l'abbinamento con la nostra giacca, 49 euro, coccio, vedete, il nostro pantalone a 30 euro, la, diciamo, facciamola vedere indossata, vedete che non è più una canotta come queste, ma, ha questo taglio particolare, il nostro gioiello per la vita, cosa vogliamo dire? È un ono bello, qui abbiamo messo una cinturina, giusto per dirvi che, unire una cosa, l'altra, quell'altra, si fanno dei completi, sempre diversi, ma bellissimi, ok? Questo, pantalone verde, ah, ce n'è ancora una di casacca, questa, a 30 euro, il nostro Made in Brescia, possiamo anche pensare di togliere la cintura, anche se sta molto, molto bene, ma la vedete indossata, giusto che stia così, vedete? Cos'ha di bello? Che è particolare? Io l'ho indossata in qualche video, quindi avete anche visto, ragazze, che sta molto bene, ce l'avevo arancione, l'avevo messa di tutti i colori, calzone 30 euro, ultimi due pezzi 30 euro, e il nostro gilet, bellissimo, stupendo e meraviglioso, a 39 euro. Ultimo abito Made in Brescia, ma ne ha ancora tre, io l'ho visto, e credo che ci sia anche la 52, Cate, quindi riesce a vestire anche la 44, a 39 euro. Guardate questo colore, per dire come sta, anche questo portato, con questo, con questo corallo, perché non è fucsia, ma è corallo questa cintura, che dite? Molto molto bello, anche questo, l'avete visto la nostra modella per un giorno, che lo aveva viola e, cos'era viola e arancione, viola e verde, bellissimo, devo dire che lei aveva, secondo me, anche una 46, Cate, o sbaglio? Può essere. Perché io quando l'ho vista, ho detto, probabilmente basta avere un seno, non troppo prosperoso, e poi sotto va benissimo, anche per quella taglia. Ha 39 euro questo abito, tutti i nostri abiti, dico tutti quelli che vedete qui, tutti, 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 Cate, veni a vedere. perché c'è lo specchio, non voglio farmi vedere. Sì? Non voglio farmi vedere. No, io, non voglio farmi vedere. non vuoi vedere tu? mamma mia. Questo, 49 euro è una media, quindi un 44, 46, Medimbrecia. Questo arriviamo fino a 54, 49 euro, Medimbrecia. Questo bellissimo 49 euro, abbiamo ribassato tutti i prezzi. e questi ragazzi, dalla 42 alla 54, costava 139 euro, a 49 euro. Fate una cosa, quanti video saranno? 10 video fa? Non lo so. Andate sulla pagina Gabriele Stabigliamento, andate sul canale YouTube, Gabriele Stabigliamento Donna, andate sul sito www.gabrielestabigliamentodonna.com, li vedete tutti in fila, e quando mi vedete addosso a questo abito, soffermatevi, costava 139 euro, quindi è scontato, quasi di 100 euro questo abito, è scontato di 90 euro. È della nostra seconda linea, stupendo e meraviglioso, in raso crepa ambersatè, con questa fantasia eccezionale, potete usarlo andare al mare, potete usarlo andare a nozze, tutto quello che volete, che poi noi abbiamo le nostre stole, lì, vedete, da abbinare un pochino su tutto, e sono doppiate, sono in seta, vi faccio vedere questa con i luccichini, per dire, la seta è da questa parte, ed è meravigliosa, se vogliamo, e dire, aspetta che prendo questo abito a 49 euro, e poi ci butto sopra, sulle spalle, questa, ditemi voi ragazze, vedete che, basta avere solo un po' di fantasia, le nostre casacche queste a 30 euro, le vogliamo vedere? Abbiamo ancora anche, la gonna pantalone mi sembra, forse due pezzi? Sì, comunque, chiedete su whatsapp, io chiudo, ah no dai, facciamo vedere, allora, abbiamo riordinato così bene qui, eh? Sì, è vero che, vedete il negozio che è tutto ribaltato, canotte, i colori rimasti, queste a 30 euro, ok? Quelle che vedete qui, 39 euro, bianco nero e la fantasia, e, infatti, devo mettere via subito questa, alla, che me l'aveva chiesta prima di iniziare il video, e lo devo fare, alla nostra patria, perché ho iniziato il video dopo, quindi però, ci sono, tutte queste, ehm, diciamo, maglie, made in Brescia, con i buchi, le ho riassortite, sapete che ce n'era una sola, guardate il corallo, la meraviglia, e guardate il blu, la meraviglia, la mettete con tutto, e dico, con tutto, ragazze, a 30 euro, questa maglia, se io ve la indossassi, con un jeans, con un calzone bianco, mi sposto di qui, Cate, con un calzone bianco, e ve la indosso, voi, eh, dite, è incredibile, perché ha la manica, ampia, a palloncino, con questi due trafori, ragazze, è stupenda, qui abbiamo fatto vedere, tutti i colori nuovi, dei nostri, assortiti, dei nostri bracciali, che ormai facevano proprio, devo dire, pena, nel senso che erano proprio, tre o quattro, li ho assortiti tutti, nei colori, guardate, tutta questa, coloritura, di, di, di grigio, di bianco, guardate la meraviglia, verdi, guardate, saranno un po' i colori, anche della stagione, bronzo, blucina, tutto quello che io vi ho fatto vedere, finora, ragazze, non possiamo trasferare, i nostri palloncini, che abbiamo questi, ecco, diciamo che qui sono tutte le taglie, presenti in questo momento, verde, azzurro, riassortito, blucina, bianco, avete visto che, c'è solo la 54, guardate, bianco, l'è rimasto solo uno, è stupendo, a 39 euro, il palloncino, anche questo, lo vedete indossato a me, poi, al prossimo giro, vi farò magari, un video, con tutti i vari accessori, queste sono, praticamente, nuove, nell'assortimento, ultimi due pezzi, 44 e 46, a 30 euro, ragazze, costavano 59, ed è bellissimo il colore, bianca, 46, 48 e 52, non possiamo avere l'assortimento, perché non sarebbe, a questo prezzo, e il Tiffany, 42, 46, 48, 50, quella che indossavo un giorno, bellissima, vedete, così, con la manichina svasatina, e guardate, con il traforo, ecco, quando voi vedete un traforo, non pensiate, che sia sempre, una cosa, troppo esagerata, e fuori dalla vostra portata, ecco, è sbagliatissimo, perché, la possono portare, tutti, eh, questo me lo prendo, perché devo poi, ehm, servire una cliente, se volete, torniamo di là, e se avete qualcosa, da chiedere, la cliente Anna Maria, no, questa è Patrizia, no, perché mi è arrivato un sì, taglia 46, non so, questa è Patrizia, mi aveva scritto, all'ora di pranzo, le ho detto, che ho risposto prima, l'abito che mi avevi chiesto, non c'è, questa me l'avevi chiesta prima, te la parto, e ti dico di sì, ma, c'è anche per le altre, nostre amiche, ok, io adesso non so, voi cosa avete chiesto, l'unica cosa che vi chiedo, amori miei, fatelo su WhatsApp, anche questi abiti, sono eccezionali, vendutissimi, fino alla taglia 54, a 39 euro, sono una, meraviglia, dai, svegliamo questa maglia dietro, perché io sento, e vedo che qualcuno, non vede l'ora di vederla, è meravigliosa, prezzo Outlet, ragazze, costava 85 euro, 69 euro scontata, prezzo Outlet, praticamente ha, vedete, perché ho detto 48, perché questa è una media, ha questa, diciamo, maglia, in viscosa, stupenda, qui avrà, praticamente, il giro omerale, sarà bellissimo, vedete, così sulla spalla, con lo spallino, che coprirà anche il reggiseno, e la manica a tre quarti, meravigliosa, l'ho presa tutta io, non ce ne sono più, quindi sono qui, facciamola vedere bianca, e c'è anche nera, poi lasciamo il prossimo giro, alla prossima volta, cosa dite ragazze, eh, dai, allora ragazze, io vi auguro un buonissimo weekend, questo, io so già, chi sarà, se vede il video, te lo chiede, Cate, quindi, a parte i mille commenti, che sono arrivati all'inizio del video adesso, per la frangia, il colore, tutto, che te li leggi dopo, non ti interrompo, perché te li godi, te li godi dopo, perché, potete immaginare, anche per fare tutto questo, procacciare tutto questo, cercare tutto questo, eh, seguire il nostro Made in Brace, in tutte le loro super offerte, e riassortimenti, perché ragazze, pantaloni 30, giacche 49, e, eh, ancora assemblare qualche tagliore, non vi ho fatto vedere questi abiti, scusa, fate che ci ho interrotto, questi abiti, pochi, ultimi pezzi, a 39 euro, non so cosa dirvi, non so cosa indosserò lunedì, ma, eh, vedremo prossimamente, su questo schermo, intanto, tutti gli abiti, che vi ho fatto vedere, finora, tutti, a 30 euro, e poi, chiudiamo, con quello che è, proprio lo smanicato, e partiamo, con tutte le cose bellissime, portabilissime, e frizzantissime, dimmi, c'era Emanuela, che voleva sapere, a che punto eri con il ginocchio, perché anche lei ha fatto una visita, Manu, devo dire, eh, molto bene, non sto nemmeno facendo tanto, non sto nemmeno facendo ginnastica, beh, ho fatto, tanta magnetoterapia, eh, ogni tanto lo sento, non lo sento nel cambiamento del tempo, vedo comunque, Katia, ti ricordi che, saranno 15 giorni fa, avevo provato a mettere queste calzature, e avevo detto, no, 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 esatto, no, 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 non posso ancora, beh, devo dire, che è un'ora e mezza che sono in piedi, e non lo sto sentendo, quindi, ho veramente, un po' di timore perché sicuramente è rimasto più delicato visto che mi ero già infortunata, mi ero rottato il crociato 5 anni fa, quindi capisci che la botta che avevo preso era nuovamente uscito di posto e ci è venuto un po', grazie anche al mio angelo la nostra carissima Paola che mi ha assistito la quale non finirò mai di ringraziare dimmi Cattina. Ricordiamo dove siamo? Sì, bimbe belle, l'avevo detto all'inizio con la mia geni, giusto per dire cosa stanno facendo queste perché magari dicono ma chi è questa quando mi vedranno su Youtube o mi vedranno chi non ci conosce chi non fa parte magari subito della nostra grande famiglia, siamo a Villa Carcina provincia di Brescia, quindi tante di voi vengono da fuori c'è chi dice guarda io non vado in vacanza ma mi sono detta, ti vengo a trovare arrivano tutte con le amiche, arrivano tutte con i mariti che ringrazio mariti, compagni, quello che è quindi ragazze noi siamo qui a Villa Carcina uscite dall'autostrada ospitaletto, siamo a 4 km dal centro città di Brescia e siamo proprio su una statale battutissima e ci trovate subito vado? Sì, chiedevano delle tute che misure sono? Allora questa è l'ultima rimasta ed è una media, veste una 42, 44, 46 ok, mentre invece queste arrivano fino alla 48 sono in jersey, sono in maglina sono in plissé ma non ingrossano per niente hanno l'elastico in vita bellissime, ci sono due versioni diciamo che sono rimaste solo blu le abbiamo lavoratissime queste allora va andrà anche il blu questo inverno quindi questa tuta ragazze 39 euro cioè quando vi dico che la media di questi capi dai 20 ai 30 ai 49 euro le giacche cioè posso dire che veramente posso dire di essere soddisfattissima di quello che vi ho mostrato e di quello che vi sto facendo vedere se avete delle richieste vorrei i miei numeri ritrovati lì su tutto ci sono anche le nostre amiche che solitamente ci aiutano adesso trovo il bracciale che l'avevo messo giusto per farvi vedere lo creo io al momento prima di iniziare così il video con i nostri branzali a 5 euro le nostre spille a 30 ovviamente che se portiamo anzi facciamo vedere anche una bella cosa finiamo in bellezza tolgo praticamente il il gioiello per la vita arrivo eh tolgo il gioiello per la vita così lo facciamo vedere guardate guardate la meraviglia di questo gioiello agata pasta di turchese perle cristallo guardate la meraviglia ok lo andiamo un attimo a posizionare qui al riparo perché voglio farvi vedere questo questo abito allora vedete ecco così è la scollatura di suo senza eh senza aprirlo a me piace anche appena appena portato leggermente aperto così giusto per dare è anche giusto farlo vedere senza eh accessori così potete vedere quanto è bello questo abito considerando che indosso una 40 e soprattutto se vi faccio vedere la crepe quella che dico essere una pelle eh magica questa la bengalina che vi ho fatto vedere e comunque guardate qui questa luminescenza questo polvere di stelle col brucina col bel col cos'è marrone nero insomma guardate qui la meraviglia eh chiedeteci 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 intanto tutto lo stand da 30 euro amiche direttatevi a guardare i film il film direttatevi a guardare i video sono cotta devo andare a bere sì perché tante mi dicono ti vedo in televisione e quindi io vedi cioè magari mi fai cioè mi monto anche la testa questo mai ragazze sono entrata il primo giorno in punta di piedi nelle vostre case e grazie a voi mi ci avete fatto accomodare accoccolare sdraiare sedere e io continuerò a farlo intanto ragazze pensatemi buon weekend vi voglio tanto bene ciao